Musica Sarà celebrato con l'apertura straordinaria in programma dalle 10 alle 22 di domenica 10 luglio il primo compleanno della Memo Mediateca Montanari. Previste proiezioni, letture di libri per bambini, incontri, concerti e visite guidate. Sarà una festa quasi in famiglia, la Memo sarà aperta per 12 ore dalle 10 della mattina alle 10 della sera, ci saranno visite guidate sia nei sotterranei per conoscere i resti romani e medievali, la guida sarà una guida speciale, la Valeria Purcano che fa parte della Fondazione Federiciana, poi ci saranno delle guide filosofiche, letterarie, così pure Fiorangelo Pucci ha curato i film che saranno dati in continuazione dalle 10 della mattina alle 10 di sera e un altro momento sarà quello musicale dopo il taglio della torta per stare insieme e festeggiare il primo anno della Memo. Abbiamo avuto 140.000 accessi circa, con una media di 500 accessi giornalieri, sono dati che in qualche parte stimavamo, inizialmente erano leggermente superiori, poi c'è stata la fase di assestamento che comunque ci fa besperare per il futuro. Questi accessi sono in parte fidelizzati, gli stessi utenti stanno utilizzando, e questo ci fa molto piacere con grande regolarità anche la macchina dell'autoprestito, che è una cosa abbastanza innovativa nelle biblioteche negli ultimi anni. Gli accessi inter, dicevo, sono molto utilizzati anche perché è un luogo di ritrovo. Se andiamo a vedere, mediamente abbiamo una media di oltre 10.4 di accessi per ogni utente, per cui in qualche modo da un'idea di fidelizzazione. Grazie.